Pallo laterale per Real Cittadina, Real Cittadina, oh, l'intervenzione della Gemma, Bamba sta pressando, Bamba sta pressando però, allora, anche lui ha detto che deve segnare anche un gol oggi, anche gli usbacca, non vediamo l'ora, gli usbacca, il numero 9, volevo fare il numero 10, l'intervuto del Gran Freire, l'intervuto del Gran Freire, il numero 15, l'internazionale magliano, l'internazionale magliano Gran Freire, bellissima questa partita, la seconda partita della sera.